Noi prendiamo atto di una cosa, il mio paese di Guardia Grele è il paese dove c'è stata la più alta percentuale di suicidi per insolvenza, parliamoci chiaro. Perché è la gente migliore che si suicida, quando io mi suicido per insolvenza lo faccio perché? Perché non voglio subire l'umiliazione che uno mi dica tu non hai mantenuto la parola data. E di fronte a questi fatti che io ho combattuto contro l'usura mi hanno messo sotto procedimento penale. Hai capito? E chi invece ha fatto quello che ha voluto fare truffando le banche centrali? L'hanno fatto Presidente della Repubblica. Hai capito? A questo punto non si può fare le guerre a metà. La guerra è mortale. Non ci sono vie di mezzo. I nostri figli non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione se noi non sostituiamo alla moneta debito la moneta proprietà. Ecco perché io sto facendo la mia battaglia per il SIMEC dove ci sono tre parole proprietà del portatore. Quelle tre parole fanno paura agli usurai perché l'usuraio vuole che ci sia la moneta debito del portatore come oggi è. Perché? Avete capito? Quando io ho detto queste cose all'università io ho sofferto questo problema. Dopo che io ho dimostrato queste cose io ho avuto pubblicato sull'ordine degli studi solo 24 ore. Corriere della Sera, i grandi giornali, il terzo anno, per due anni ho fatto la scuola sulla moneta proprietà del popolo. Il terzo anno il direttore non ha voluto firmare il decreto di attivazione del corso pur essendo stato annunciato sull'ordine degli studi. Perché? Perché noi abbiamo messo il dito sulla piaga e quando tu tocchi certi interessi il padrone che comanda è l'usuraio. Quando tu hai toccato la piaga dell'usuraio, quello che dici tu su questo argomento non parli più. È la prima volta che si fa una cultura monetaria. È la prima volta che si parla di proprietà della moneta. È la prima volta che la gente comincia a capire la differenza che c'è tra proprietà e debito. Io ho avuto un mio studente il quale è venuto a fare l'esame e dopo che io gli ho spiegato queste cose gli ho detto scusa, dopo che ti ho spiegato che ti hanno trasformato da proprietario in debitore dei tuoi soldi, sei incazzato? Questo mi ha detto no, questo non so. E allora dici che non hai capito niente, l'ho bocciato, te ne puoi andare. Hai capito? Ora queste cose non le possiamo più tollerare, non si può più andare avanti. Ogni giorno che passa trovi la gente che è angosciata. Tu hai le liti dentro casa, hai gli omicidi che si scatenano. Perché? Perché c'è l'angoscia. È l'angoscia dell'insolvenza. È la malattia fondamentale. La gente è preoccupata perché gli usurai sono arrivati a mettere l'ipoteca sulle case, gli espropri delle case, gli espropri dei beni, le famiglie sono strozzate perché sono state trasformate da proprietari in debitrici e non se ne sono accorti. Ecco perché... Vado avanti perché lei lotta per il benessere del popolo. Grazie. Auguri. Grazie, grazie, grazie molte. Ecco, vedete, scusate questi sfoghi in televisione ma...